Abbiamo improntato una campagna specifica per la stagione invernale che riguarda proprio prodotti per la stagione fredda che consistono in pneumatici, batterie e spazzole tergicristallo. Sappiamo l'importanza dei pneumatici invernali che adesso sono stati resi obbligatori per un certo periodo di tempo su certe strade. Sui pneumatici invernali abbiamo dei prezzi molto concorrenziali che partono da circa 30 Euro con sconti fino all'80%. Poi abbiamo le spazzole tergicristallo quindi con prezzo di partenza 10 Euro con sconto fino al 50% e batterie, prezzo di partenza 30 Euro con sconto fino al 50%. Continuiamo ad offrire ai clienti che fanno dei taglianti completi oltre allo sconto normale un simpatico orologio Fiat e inoltre abbiamo per lo stock di lunga giacenza quindi ricampi che consistono in ricampi di carrozzeria parabrezza, meccanica, accessori con sconti fino all'80%. dell'U.L.I. AAAAAA Grazie a tutti.